Dalla 1 su 100.000 ma neanche, 1 su 1 milione di mob, 1 su 100.000, non lo so. Ma 1 su 100.000 si può star. Per me è comunque solo in mappa, perché le nane vede molto troppi secondo me. Oppure sì, magari dalle mappe 75 in poi. C'è tantissima gente che è fuori dalle mappe, che farm, 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 c'è molta più gente a livello 60 in giù che 60 in su secondo me. Molta più gente, no? Quindi. Pescia in cui è quello che si deve, ma si ricordi che livello è, 62. Sì, mi sembra di sì, 62 dovrebbe. O 61. Io li leggo comunque, ok. Io sono tra i 56, quasi quasi tra poco posso andare avanti. Perché poi è anche più facile fessere per me, perché non c'è il torno, è un bastardo. Mi sa che sono morto, mi sa che sono morto. No, sono vivo. Che cazzo di culo. Mamma mia. Che l'hai fatto? The Sync, The Sync, The Sync. E tu l'hai rifiutato? Sì, sì. Adesso, oh, stavo anche registrando. No. Ma ve lo faccio vedere. Sì, sì.